Arriva l'ultima giornata, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare, tanti verdetti da decretare, soltanto la Juve Stabia ormai promossa in beacon, diversi turni di anticipo e il brindisi è retrocesso in D dopo un solo anno tra i pro. Per il resto è tutto da giocare, la gria playoff è quella più affascinante, attualmente sono 8 le squadre già dentro, Latina e Ceregnola ancora non hanno strappato la matematica perché Sorrento e Foggia sono in agguato, ai Pontini basta il pareggio in casa contro il Taranto per giudicarsi la postseason, mentre l'audace di Raffaele contro il Giuliano ha già certo dei playoff, al Montelisi ha la chance dell'aggancio ai Tigrotti e di superare anche diverse compagini come l'esempio il Crotone impegnato da Avellino, il Foggia in casa delle Monterosi si gioca il tutto per tutto, anche se con una sconfitta potrebbe la compagine di Cudini approdare comunque alla postseason, qualora anche il Catania perdesse in casa contro il Benevento, insomma gli accoppiamenti dal quarto posto in giù restano Rebus, la casertana al Pinto dovrà cercare di superare i Cugini del Sorrento per essere certa del quarto posto, perché il Taranto ha preparato l'assalto ai Falchetti, i costieri con un'eventuale blitz potrebbero in cruci a parte ritrovarsi clamorosamente dentro la bagarre per la promozione, passiamo alla zona rossa, attualmente Turris-Monterosi e Monopoli-Francavilla sarebbe il play-out, in caso di quattro sconfitte delle compagini sopraccitate non cambierebbe nulla, mentre in caso di vittoria della Turris-Sabrinisi e sconfitta del Monterosi contro il Foggia, i laziali andrebbero dritti in D, il Monopoli ai veneziani contro il Giassalvo-Messina potrebbe consolidare lo sporeggio tra le Muramiche in caso di successo, o addirittura salvarsi se perde la Turris in Puglia. La Virtus-Francavilla, che va a potenza, non può altro che giudicarsi l'intera posta in palio, allo stesso tempo ai Lucani di De Giorgio basta un punto per confermare la categoria. Il Westabia-Picerno sarà un match caratterizzato da tanti gol, i Lucani sono già certi del sesto posto, da Brividi e Catania-Benevento, gli Etnei dovranno a giocoforza strappare punti contro i Saniti, altrimenti potrebbero ritrovarsi nel limbo dei play-out, sempre se Montalosi e Turris si giudicassero le partite contro Foggia e Brindisi, insomma, dalle 18.30 gli incroci pericolosi del Gerone C prenderanno vita, c'è chi vuol sognare il paradiso, chi evitare l'inferno.